Bene, siamo di nuovo a una presentazione alla quale teniamo in particolar modo perché è un saggio di un caro amico d'Italia medievale e il libro si intitola Il Grifo e il Leone, edito dalla Terza, uscito da pochissimo e ovviamente come si può intuire dal titolo ci parla dei rapporti tra Genova e Venezia nel Medioevo. L'autore è Antonio Musarra che io saluto e ringrazio di aver accettato il nostro invito e al quale do immediatamente la parola. Bene, grazie innanzitutto caro Maurizio, saluto tutti voi di Italia medievale. Per me è un grande piacere poter presentare Il Grifo e il Leone in questa sede e presentarvi quello che è un po' il frutto di uno studio decennale. Il Grifo e il Leone si parla, tratta di un vero e proprio capitolo di storia mediterranea che ha visto che le nostre due astri d'Italia, per citare Francesco Petrarca, scontrarsi e incontrarsi nel Mediterraneo in un periodo lunghissimo, diciamo così, tra XII e XIV secolo. Diciamo subito che è un libro di divulgazione e questo è un tema importante. Noi sappiamo bene che la divulgazione soffre oggi di diversi problemi. Che cos'è la divulgazione di fatto? È la restituzione di un sapere già certificato. Questo molto spesso nell'accademia non è compreso, io lo devo dire chiaramente. Molto spesso gli accademici storcono il naso di fronte alla carenza di note o a un piglio eccessivamente narrativo. In realtà io credo che la divulgazione sia proprio il tramite, il tradunione tra l'accademia e i suoi studi rigorosi, scientifici e la società civile che necessita di storia. E per questo io dico il lavoro che voi fate con Italia Medievale nel divulgare i temi che gli storici studiano all'interno degli archivi è innanzitutto un lavoro straordinario, io per questo vi ringrazio. Dunque la divulgazione è importante. È un libro di divulgazione che però ha alla base una scelta ben precisa, quella di non riportare in nota il dibattito storiografico su due grandi città importanti per il nostro Medioevo, Genova e Venezia, ma di riportare in nota invece l'indicazione delle fonti. Perché? Perché questa vicenda ha lasciato nei nostri archivi fonti di varia natura e soprattutto abbondantissime, su cui naturalmente storici di varie generazioni dall'Ottocento in poi si sono esercitati. Voi potete capire che se avessi dovuto riportare oltre alle fonti anche l'intero dibattito storiografico relativo a due giganti come Genova e Venezia il volume sarebbe quantomeno raddoppiato, già piuttosto corposo possiamo dire così. No, ho voluto riportare unicamente le fonti dichiarando chiaramente il fatto che le mie stesse conoscenze sono cresciute nel corso del tempo su chi mi ha preceduto. Devo citare soprattutto la scuola genovese di Gio Pistarino, Michel Ballard, Sandra Rigone, Gabriele Eraldi, ma poi anche la grande venezianistica, Alberto Cessi, Ermanno Orlando e molti altri, non li cito tutti perché sicuramente ne prenderei per strada a qualcuno, Frederick Lane e via dicendo, però soprattutto l'attenzione mia è stata per una rilettura delle fonti che appunto sono abbondantissime e che ci narrano di una vicenda fatta sì di scontri ma anche di incontri, questo è bene dirlo subito. Il focus centrale è senza dubbio il conflitto, il conflitto che va sviluppandosi nel Mediterraneo e nel Mar Nero tra Genova e Venezia, in particolar modo dopo la cosiddetta Quarta Crociata, quindi dopo la conquista latina di Costantinopoli del 1203-1204 soprattutto, e che sviluppa, possiamo dire così, una guerra di corsa che si tramuterà poi ben presto in una guerra aperta tra le due marine. Però questa storia non è una storia fatta unicamente di conflitto. I nostri archivi ci restituiscono anche tutta una serie di rapporti che sono rapporti principalmente commerciali tra le due città e soprattutto rapporti commerciali che si sviluppano in Oriente, nel Mediterraneo orientale, laddove veneziani e genovesi si trovano spesso a stretto contatto gli uni con gli altri, sviluppando dunque relazioni, instaurando società, partecipando a società per azioni, potremmo dire così, spesso impegnati nel commercio schiavistico, in particolar modo con l'Egitto mamelucco. E queste relazioni portano ad esempio Venezia ad avere una propria comunità presente stabilmente a Genova dagli anni 70 del XIII secolo. Dunque non si tratta solamente di relazioni di natura conflittuale, però il libro analizza quella che è comunque la cifra del periodo e la cifra generale, possiamo dire così, dei rapporti tra Genova e Venezia, che è sicuramente la cifra conflittuale. E come nasce il volume dunque? Nasce fondamentalmente dalla mia tesi di laurea. Io mi sono laureato nel 2007 a Genova con Marina Montessano, analizzando quello che fu il primo scontro aperto tra le parti, ovvero la cosiddetta guerra di San Sava. Ci troviamo ad Acri, ovvero in quella che è la capitale del regno latino di Gerusalemme, ci troviamo alla metà del XIII secolo, tra il 1257 e il 1258, a luogo questo scontro, innanzitutto all'interno delle vie, delle strette vie della capitale crociata, di quella che è ormai diventata la capitale crociata. E' uno scontro che però si allarga ben presto ai flutti, nel momento in cui entrambe le città inviano le proprie flotte per sostenere le proprie comunità, i propri cittadini, i propri cives che combattono all'interno di Acri. Combattono per quale motivo? Beh, fondamentalmente per motivi di natura commerciale. Acri inizia a diventare, anzi da qualche tempo è diventato il principale sbocco occidentale delle cosiddette vie della seta. Siamo in un periodo in cui la Pax Mongolica comincia ad affermarsi, comincia a permettere il trasporto di merci lungo le piste carovaniere che si inoltrano nell'Asia interna, che portano poi queste merci sino al Mediterraneo. Acri ha ormai soppiantato l'Egitto quale appunto principale sbocco di queste merci, principale luogo di interesse anche delle marine italiane, benché l'Egitto abbia con la via delle spezie, mantenga potremmo dire così un ruolo importante. Ad Acri però non esiste un potere politico forte, perché? Perché la comunità, la corona anzi, è in mano all'erede di Federico II, che è lontanissimo dalla città. E dunque questo conflitto ha modo di svilupparsi, con risultati inattesi, potremmo dire così. I genovesi sono ripetutamente sconfitti dai veneziani e sono cacciati via dalla città. E lì ha luogo quello che è una vera e propria plattornà del Mediterraneo stesso. Cacciati da Acri, i genovesi si rifugiano inizialmente a tiro e poi stringono alleanza con l'impero bizantino. Il famoso trattato di Ninfeo del 1261, appena precedente alla riconquista della capitale sul Bosforo, rappresenta veramente un punto di svolta, ed è il punto che dà avvio appunto a tutta questa serie di conflitti che avranno termine fondamentalmente al principio del Quattrocento, con le paci del 1404 e del 1406. Naturalmente con tutta una serie di interruzioni nel mezzo, che però non sono mai interruzioni pienamente pacifiche. A conflitti aperti si alterna quella che è una prezzante guerra di corsa, che mostra appunto come questa conflittualità sia latente e sia appunto continua. In genere siamo abituati a distinguere quattro conflitti principali. La prima guerra veneto-genovese, che si sviluppa negli anni 60 del XIII secolo e che ha termine, grosso modo, con la partecipazione di entrambe alle marine alla crociata del 1270, più dei genovesi che dei veneziani, a dir la verità. La seconda guerra veneto-genovese, che si sviluppa negli anni 90 del XIII secolo e che vede invece Genova nettamente superiore rispetto a Venezia. Ricordiamo le grandi battaglie di la Iazzo e di Cursola, la stessa battaglia che recò probabilmente nelle carceri genovesi niente meno che Marco Polo, benché qualche indizio ci porti a dire che forse fu catturato l'anno precedente o addirittura nel 1296. Insomma, la questione rimane controversa, ma nel libro riporto varie ipotesi anche su questo. La terza guerra veneto-genovese, che si sviluppa alla metà del XIV secolo e, cosa del tutto singolare, immediatamente dopo la famosa Peste Nera, quindi con una carenza di uomini del tutto peculiare che porta con sé tutta una serie di modifiche anche nella strutturazione degli equipaggi. Erano battaglie prettamente navali, combattute tramite la capital ship del Mediterraneo, cioè la Galea e poche navi, possiamo dire così. È una guerra che si conclude nell'arco di cinque anni, tra il 1350 e il 1355. E poi la cosiddetta Quarta Guerra Veneto-Genovese, che molti chiamano Guerra di Chioggia, che grosso modo si sviluppa tra il 1377-78 e il 1381, concludendosi poi con la pace di Torino. In realtà poi ci sarà un ulteriore conflitto al principio del Quattrocento, tra il 1403 e il 1404, che vedrà contrapporsi il maresciallo francese governatore di Genova, Boussicot, il famoso Boussicot, con l'ammiraglio Carlo Zenn. E i conflitti rimarranno anche in seguito. Io posso citare tutta una serie di episodi che non sono compresi nel libro, ma che mostrano ad esempio gli odi, le maldicenze che si sviluppano tra genovesi e veneziani all'atto della conquista di Costantinopoli nel 1453, o ancora prima nel 1444 con la battaglia di Varna, l'accusa che i veneziani fanno ai genovesi di aver sostenuto il turco nell'oltrepassare il Dardanelli, accusa assolutamente gratuita. Ma ancora nel 1797, vi racconto questo episodio, un viaggiatore inglese, un certo Thomas Watkins, si reca a Genova, in viaggio a Genova, siamo nell'ambito del Grand Tour, e si sofferma in una osteria cittadina di Sottoripa, per chi non la conoscesse, una sorta di souk cittadino genovese. In questa osteria ha luogo, ha modo di assistere a una discussione molto accesa tra i genovesi presenti e due veneziani che litigano su che cosa? Sulla grandezza, sull'importanza dei propri rispettivi santi patroni. I veneziani affermano che San Marco è più importante, è il più importante dei santi, non a caso il loro presule è un patriarca, quindi superiore all'arcivescovo di Genova. I genovesi invece dicono, no, guardate che invece San Giovanni è superiore. Insomma, la questione finisce addirittura con dei morti ammazzati. E Watkins, insomma, nel suo diario nota, beh, questo è il carattere nazionale di genovesi e veneziani, abituati a farsi la guerra così come facevano nell'età medievale. E quindi una storia di lunghissima durata. E qual è il motivo, l'oggetto del contendere? E cosa c'è dietro la natura prettamente commerciale di questi conflitti? Beh, io credo innanzitutto il controllo delle rotte. I conflitti sorgono per motivazioni piuttosto contingenti, benché le cause siano certamente profonde. Pensiamo ad esempio alle guerre trecentesche. La terza guerra veneto-genovese è una diretta conseguenza della conquista genovese da parte di Simone Vignoso e di una serie di patroni navali dell'isola di Chio, che è uno snodo essenzialmente, uno snodo importantissimo per la navigazione tra l'Egeo e, come dire, la rotta meridionale che porta da un lato a Cipro e all'Egitto, alla costa siro-palestinese, dall'altro direttamente a Costantinopoli e nel Mar Nero. Il controllo di Chio, da cui peraltro i genovesi esportano il mastice in tutto il mondo, diventando monopolisti del mastice stesso, rappresenta un problema, un problema per Venezia, che dunque si sviluppa in questo conflitto. Alimentato da che cosa? Beh, nuovamente dalla presenza genovese di fronte a Costantinopoli, nella collina di Galata, nel soborgo di Pera, una vicenda che ha inizio tra il 1267 e il 1268 e che proseguirà fino al 1453. Inizialmente sottoposta a Costantinopoli, la colonia di Pera acquisterà nel tempo veri e propri privilegi di extraterritorialità, tirando a sé tutto il traffico pontico, tutto il traffico costantinopolitano. E questo naturalmente, insomma, provocherà l'alleanza tra Venezia e l'imperatore bizantino, mentre dall'altro lato del Mediterraneo l'altro grande competitor, cioè la corona catalana-aragonese, cercherà anch'essa di strappare i genovesi le proprie posizioni conquistate in Sardinia. In effetti si tratta di un vero e proprio conflitto pan-mediterraneo che coinvolge tutte le principali marine dell'epoca alla metà del Trecento. Il conflitto immediatamente successivo sorge, scoppia per motivi speculari. Questa volta è Venezia che occupa, dopo che Genova si è ben attestata a Cifro con la conquista di Famagosta, che manterrà per un secolo, è Venezia che nel 77 occupa invece Tenedo, che è un'isola estremamente strategica per il controllo del traffico attraverso i Dardanelli, il Mar di Marmara e quindi dunque il Bossor. Da Tenedo, dicono i cronisti dell'epoca, è possibile bloccare le galè grosse o le navi commerciali e quindi fondamentalmente controllare l'area pontica, che ormai è diventata la nuova meta del commercio di genovesi e veneziani che smerciano granaglie ma poi soprattutto schiavi. Insomma, il controllo, il tentativo di controllo di Tenedo provocherà la reazione genovese che si spingerà fin dentro la laguna, fino al tentativo di conquistare o quantomeno razziare i dintorni di Venezia stessa. Non era la prima volta, naturalmente. Già alla fine del 200, insomma, i genovesi si spingono fino a Cursola, quindi stiamo ben dentro l'Adriatico. Questo è qualcosa che non dobbiamo assolutamente dimenticare. E però con la guerra di Chioggia, possiamo dire così, il risultato è parzialmente raggiunto. Parzialmente raggiunto perché Venezia dimostra di sapersi riorganizzare in maniera strabiliante e di poter dunque contrastare il nemico genovese che però tuttavia riesce comunque a strappare una pace che non è favorevole né all'una né all'altra. Chi sono dunque i veri vincitori di questa grande partita? Immagino che questa sia una domanda che tutti quanti si pongano ed è una domanda, devo dire, che mi viene posta in continuazione. Non c'è un vero vincitore, possiamo dire così. Io nel volume esposo l'opinione di Petrarca, che è un personaggio molto spesso trascurato dagli storici, ma che è fondamentale per comprendere le dinamiche politiche nella penisola alla metà del Trecento e che ha uno sguardo retrospettivo eccezionale. Nelle sue stesse lettere egli mostra di conoscere la storia genovese-veneziana dell'ultimo secolo. Petrarca è un personaggio della vicenda, possiamo dire così, è un agente dei Visconti, i Visconti lo mandano a negoziare la pace tra Genova e Venezia. Non sappiamo se effettivamente la pace fu poi un suo risultato, probabilmente no, ma forse su molte cose aveva visto giusto. Ebbene, tra queste cose Petrarca segnala il fatto che il conflitto tra genovesi e veneziani ha permesso nel corso del tempo e permette naturalmente ai suoi tempi ad altri soggetti di appropriarsi dall'esterno della penisola stessa. E lui ha in mente fondamentalmente i catalano-aragonesi, che come sappiamo si installano innanzitutto in Sardegna dagli anni venti del trecento, sono già presenti nel meridione e faranno poi la storia del meridione successivo. Ma vi è un secondo elemento che invece riguarda prettamente il Mediterraneo orientale. I veri vincitori probabilmente sono i turchi. I turchi che sfruttano i conflitti interni tra, i conflitti tra genovesi e veneziani, tra queste due marine, che avrebbero potuto effettivamente fare la differenza se si fossero coalizzate e non contrapposte. Naturalmente questa è storia controfattuale, per cui non potremo mai sapere se le cose fossero andate diversamente, probabilmente no. Però interrogarsi su queste cose è comunque qualcosa di interessante. Di fatto, proprio mentre i genovesi e i veneziani combattono tra loro, mentre la corona aragonese spinge i genovesi a riguardare a Occidente nel 1354, i turchi oltrepassano i Dardanelli e cominciano quella manovra di accerchiamento di Costantinopoli e di occupazione dei territori europei dell'impero bizantino, che avrà termine a distanza di un secolo esatto, appunto nel 1453, nonostante appunto i ritardi causati provvidenzialmente dall'avvento di Tamerlano all'inizio, alla fine del Trecento. Questa è una possibile soluzione del dilemma che mi viene continuamente posto. La realtà è che noi ci troviamo di fronte a due città, due città che rappresentano due stili, due modi diversi di intendere la vita, di intendere l'organizzazione politica, di intendere l'organizzazione economica. Ora, potremmo dire due Italie. Molto spesso, faccio notare questa cosa, il paradigma delle due Italie è utilizzato per, come dire, separare il Sud dal Nord, mostrando due economie profondamente diverse. Noi sappiamo che questo paradigma che David Abulafia utilizzò in un suo testo famoso oggi è stato ampiamente, ampiamente rivisto. E però io vorrei spingere, e questo mi rivolgo anche ai colleghi, alla comunità scientifica, non solo a tutti coloro che sono assetati di notizie di questo genere, a riconsiderare la faccenda, ponendo mente a un'Italia tirrenica e a un'Italia adriatica. Questo potrebbe essere interessante, potrebbe sviluppare nuovi paradigmi. Di fatto Genova ha uno stile, un approccio al tirreno, al Mediterraneo orientale, profondamente diverso rispetto a Venezia, che ha necessità invece di districarsi in fondo a quello che è un vero e proprio lago, un giardino di casa proprio, che può essere però serrato e può chiudere Venezia in una morsa. E questo è un tema estremamente interessante. Di fatto il volume dedica i primi quattro capitoli a mostrare queste differenze, a mostrare come Venezia tenti continuamente di evitare che una stessa potenza si installi su entrambe le sponde dell'Adriatico. Perché? Perché questo vorrebbe dire poterla chiudere all'interno del proprio lago, all'interno del proprio giardino di casa, di cui forse, ma è anche questa un'ipotesi, il dirigismo dell'aristocrazia veneziana, qualcosa che Roberto Lopez aveva definito senza mezzi termini statalismo, e quindi la necessità di agire in maniera più dirigistica, potremmo dire così, una aristocrazia più coesa, anche nella necessità stessa di mantenere vivo un sito continuamente insidiato dalle acque e anzi più dalla terra che dalle acque, quindi con tutto ciò che comporta in termini di insabbiamento, eccetera. Genova mostra invece una maggiore libertà, il tirreno è molto più aperto, usiamo questa metafora per dire così, e anche una libertà di intrapresa che a Venezia è meno praticata, possiamo dire così. E questo forse fa in parte la fortuna dei genovesi che non vi sdegnano, ad esempio, di essere governati da signori stranieri a patto di poter continuare a seguitare i propri traffici. C'è un approccio dunque diverso, stato versus individuo, diceva già Roberto Lopez, anche se sono affermazioni naturalmente da contestualizzare e forse anche da mitigare, che però rappresentano bene questa dualità, status versus individuo, e però una sola riuscita, la capacità dunque di creare da entrambe le parti due imperi, Commonwealth, ecco, per usare un termine amato molto da Geo Pisterino, un Commonwealth fatto di innumerevoli basi, insediamenti, sparsi un po' dovunque dal Mediterraneo, atti a favorire la navigazione. Navigazione che, lo ricordo, prima di lasciare la parola a Maurizio, perché già ho parlato troppo, navigazione che è prettamente una navigazione di cabotaggio e che tale rimarrà fino a buona parte dell'età moderna, si può dire stino alle soglie del vapore, ecco così. La navigazione è prettamente di cabotaggio, si procede di costa in costa, di isola in isola, i porti sorgono spesso a distanza di un giorno di navigazione l'uno dall'altro, abbiamo molto spesso il fenomeno di porti senza città, ad esempio, che segue appunto la necessità di caricare a bordo a bordo di galè, dalla stiva estremamente ridotta, vettovaglie e soprattutto acqua. Dunque, l'aspetto marittimo è un aspetto che è fortemente presente nel volume e che, diciamo, permea tutto interamente questo conflitto che si va a sviluppare appunto nell'arco di ben due secoli. Bene, Antonio, è davvero affascinante. Mi salge una domanda. Sul piano militare, la guerra tra Genova e Venezia, le guerre tra Genova e Venezia, sono quasi esclusivamente di tipo marinaro o hanno anche confronti sulla terraferma, primo. E secondo, si può fare una classifica nella forza, visto che poi il conflitto non si risolve a favore né dell'uno né dell'altro sostanzialmente, ma si può dire questa aveva la marina più forte e potente e quest'altra invece sulla terraferma ricambiava con altro tanto vigore. Sì, allora, questa è la parte forse più affascinante del volume che io ho studiato tramite metodo quantitativo e seriale, quindi in fondo al volume ci sono delle tabelle che mostrano la capacità di armamento delle due marine. Si tratta totalmente di conflitti combattuti sul mare. Non abbiamo notizia di scontri diretti tra veneziani e genovesi benché queste guerre abbiano un risvolto anche di terra nel momento in cui gli alleati delle due marine giungono da un lato a minacciare tramite compagnie di ventura Genova stessa dall'altro a minacciare Venezia pensiamo ai ruoli dei carraresi o del sovrano di Ungheria sul retroterra appunto veneziano nel corso della guerra di Chioggia ma tra le due marine si combatte prettamente sul mare. Ora la tesi del volume è che vi sia una stretta connessione tra lo sviluppo sia strategico della guerra navale nel Mediterraneo medievale e sia anche tecnico in termini di costruzione di adattamento della della Galea in particolar modo oltre che della Navis che dunque vi sia una stretta connessione tra questi elementi e la conduzione di questi conflitti noi vediamo che una specie di parabola partendo appunto dalla metà del 200 semplicemente contando il numero di legni messi in mare dall'una e dall'altra la media di legni di galè utilizzate nel corso della prima guerra veneto-genovese la guerra di San Saba e il conflitto immediatamente posteriore è attorno alla Trentina raddoppia raddoppia nella seconda guerra veneto-genovese quando raggiungerà addirittura la Sessantina e questo grazie soprattutto all'impegno genovese più veneziano io devo dire senza voler nulla togliere al grande arzena dei veneziani che si andrà a sviluppare proprio nel 300 a seguito di questi conflitti devo dire che Genova mostra una capacità armatoriale superiore non lo dico io lo dicono semplicemente i numeri che abbiamo a disposizione al netto delle perdite documentarie naturalmente una capacità armatoriale superiore che si basa su un sistema prettamente privatistico laddove Venezia predilige invece un sistema misto quindi non è vero che tutte le galè sono costruite nell'arsenale trecentesco che è altra cosa da quello duecentesco naturalmente è un sistema misto però Genova ha una disponibilità maggiore perché? perché il suo sistema canteristico è fondamentalmente un sistema diffuso che permette a Genova di usufruire di legni in particolar modo di legni da guerra praticamente da tutto l'arco delle riviere Liguri che sono tenute tramite bandi di coscrizione a cedere alla dominante appunto un tot di legni e un tot di armati questo Venezia a luogo ma solo in parte anche lì abbiamo bandi di coscrizione prestiti forzosi che sono citati dalle fonti ma non non si raggiungeranno i numeri che Genova dimostra di poter mettere in campo oltre alla resilienza stessa genovese che in periodi di crisi riesce comunque a rimettersi immediatamente in sesto immediatamente dopo la guerra di Chioggia Genova comincia un nuovo conflitto contro i mamelucchi che si dispiega negli anni 80 del XIV secolo questo è un elemento importante la stessa seconda guerra veneto-genovese quella degli anni 90 del 200 è immediatamente posteriore al lungo lunghissimo conflitto con Pisa in cui Genova ha messo in campo un numero di forze eccezionale per cui se dovessi dare una valutazione vi assicuro che non sono di parte non sono nemmeno genovese ho solo l'accento ma di origini siciliane devo dire che effettivamente Genova ha una capacità di armamento importante forse superiore a Venezia e quella cosa interessante è che proprio in questo periodo vanno sviluppandosi le tecniche le strategie della guerra navale sono proprio i conflitti tra le due città che permettono uno sviluppo strategico la cinematica della battaglia navale si configura proprio nella seconda metà del tredicesimo secolo tramite una serie di fasi dal posizionamento delle flotte al lancio di quadrelli di balestre di frecce incendiarie sino all'arembaggio è una sequenza che si configura a mio avviso mia tesi che può essere tranquillamente smentita naturalmente che si configura in questo periodo quindi questi conflitti hanno comunque un risvolto anche in quello che è il pensiero il pensiero navale dell'epoca diciamo così bene io ti ringrazio tantissimo ricordo il titolo di questo nuovo saggio il grifo e il leone con un sottotitolo che comunque ci dice subito Genova e Venezia in lotta per il Mediterraneo chiaro sintetico semplice dichiara subito il contenuto del prodotto editoriale la pubblicazione è di La Terza l'autore Antonio Musarra e spero di di riaverti presto perché tanto tu sforni un libro ogni due tre ma sono meditati a lungo appunto questo è voluto molto tempo la domanda così da profano quale posso essere io è come da diavolo fai ma questo per me rimarrà comunque un mistero qualunque sia la risposta che puoi darvi bene grazie grazie a voi grazie a tutti e soprattutto viva Italia Medievale grazie Antonio grazie bene arrivederci a tutti dopo grazie a tutti Grazie a tutti.